DIAVOLO 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 Tony sto arrivando non preoccuparti Trasmissioni urgenti in arrivo dal ponte I controlli di stabilità della nave non funzionano correttamente Sto rilevando una pericolosa inclinazione a Tribordo Sarà meglio andare a dare un'occhiata, mi dirigo al ponte DIAVOLO 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 Grazie a tutti. 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 con Tony. Tony hai dato un'occhiata là fuori, abbiamo un grosso problema. Sous-titrage ST' 501